E torniamo in Italia. Per sterilizzare i reparti covid dell'ospedale di Piacenza arrivano squadre specializzate nella bonifica di siti nucleari dismessi. Elena Fosai. Pochi secondi e nell'area viene dispersa una sostanza combinata di perossido di idrogeno e sali di argento. Vengono sterilizzati così i reparti dell'ospedale di Piacenza, quelli che hanno accolto i primi pazienti covid dell'Emilia-Romagna, la seconda regione per contagi. Oggi qui entrano le squadre speciali che di solito lavorano alla bonifica dei rifiuti radioattivi negli impianti nucleari dismessi. In sostanza è acqua ossigenata, si fa per poter andare in tutti quegli anfratti che potrebbero sfuggire con la precedente disinfestazione relativa al covid. Quello che facciamo noi ci raccontano non lo devono fare i sanitari già allo stremo delle forze. C'è una cosa in comune, sia i virus che le radiazioni sono nemici invisibili. Nell'ospedale Piacentino i posti in terapia intensiva sono triplicati fino a 45. Alcuni locali dedicati alla prima fase dell'emergenza ci dicono si stanno liberando. È importante che le stanze siano completamente sanificate per non far correre il rischio di nuovi contagi. Oggi il 70% dei pazienti viene per problemi non strettamente correlati al coronavirus. L'ospedale ha attraversato una rivoluzione, ci spiegano, adesso col virus bisogna convivere e guardare avanti.